Ciao a tutti e benvenuti su Hobby Perline. In questo video vedremo come utilizzare un anellino, uno dei componenti fondamentali del nostro hobby. Infatti ci permette di collegare tra loro due elementi diversi. In particolare in questo video vedremo come collegare uno sharm ad una catena. Per realizzare questa tecnica abbiamo bisogno di due pinze piatte, un anellino, uno sharm e una catena. Con una pinza piatta afferiamo l'anellino. Posizioniamo poi un'altra pinza piatta sull'altro lato dell'anellino e apriamo l'anellino muovendo solo una delle due pinze verso di noi. Infiliamo lo sharm, infiliamo la catena, a questo punto richiudiamo l'anellino riportandolo nella posizione iniziale. ed ecco qui la nostra tecnica realizzata. Un saluto a tutti da Hobby Perline e grazie per averci seguito. Un saluto a tutti.